E' stata una notte di Halloween, fortunatamente senza eccessi legati all'alcol che invece si erano registrati in modo preoccupante lo scorso anno, ma non senza denunce. Se infatti da un lato la notte è filata liscia, solamente un intervento del 118 per una ragazza casentinese che si era sentita male in stato di ebrezza, i controlli e tappeto della polizia locale di Arezzo hanno portato ad alcune denunce. Nel mirino degli agenti, tra gli altri, sono finiti due bar del centro storico Aretino che servivano alcolici a minori. In un caso è scattata solamente la sanzione amministrativa, mentre nell'altro è partito anche l'esposto penale in quanto il cliente aveva meno di 16 anni. Scoperto e denunciato, inoltre un giovane Aretino sorpreso al parcheggio Ex Cadorna con 20 grammi di marijuana già suddivisa in dosi. I controlli della polizia locale sono stati poi estesi anche fuori dal centro storico Aretino. Un locale è stato multato per la musica troppo alta, sanzioni anche per un ambulante fuori da una discoteca. Anche in questo caso gli agenti della polizia locale lo hanno sorpreso a servire alcolici a minori.